Il primo lavoro è una cosa un pochettino triste raccontarla perché diciamo che facevo dalla terza alla quarta elementare facevo mezza giornata per lavoro e mezza giornata a scuola la mattina a scuola, come reggio al lavoro per i cambi, come devo andare appresso a quello che faceva un uomo un uomo operante, capito? E' triste solamente le mie emozioni a raccontarla Aiutava suo padre e la famiglia a raccogliere? Come no, diciamo che è arrivato un momento che ero un verno della famiglia e avevo considerato che dovevo andare avanti così e di fatti facendomi più grande ho riuscito a poter realizzare qualche cosa magari della giornata e ho imparato un mestiere e a mia madre diceva che c'era qualcosa che mi ripotevamo perché altrimenti la famiglia ci ha fatto a pensi a tutti i anni prima